Musica Buonasera e benvenuti in edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. 30 anni di carcere, questa la pena per Marius Lucian Aprian, il pizzaiolo rumeno che nel settembre 2018 ha ucciso l'artigiano di Fontana Fredda, Alessandro Coltro, a colpi di pistola. In aula, prima della sentenza, ha chiesto scusa all'anziana madre della vittima. È stato condannato a 30 anni con il rito abbreviato Marius Lucian Aprian, il pizzaiolo rumeno, 49enne, danno ai residenti a Budoia, accusato dell'omicidio di Alessandro Coltro. L'artigiano di Sacile è freddato da tre colpi di pistola il 24 settembre 2018 nel parcheggio del Metacenter di Fontana Fredda. La sentenza è stata pronunciata oggi nel tribunale di Pordenone dal giudice Giorgio Cozzarini. Una pena più lieve rispetto a quella domandata dal PM Monica Carraturo, che aveva chiesto l'ergastolo dal momento che non è stata riconosciuta la premeditazione. Aprian, rio confesso, ha sempre sostenuto che Coltro si era recato all'incontro a Fontana Fredda con 15.000 euro per uno scambio di denaro o per l'acquisto di Rolex e di aver avuto l'intenzione di impossessarsi della somma portata con sé dall'artigiano di Sacile, ma non quella di ucciderlo. Tesi che non ha mai convinto gli investigatori, secondo i quali dietro l'omicidio c'era un giro di riciclaggio di denaro. In aula era presente anche l'imputato, che prima della sentenza ha rilasciato dichiarazioni spontanee nelle quali ha chiesto scusa all'anziana madre della vittima. Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni. Intanto gli avvocati difensori stanno studiando un eventuale ricorso. La Polizia di Stato di Pordenone ha portato alla luce una complessa truffa dei canili. Sotto accusa la struttura di Villotta di Chions, con sede anche ad Arzene. Indagata la titolare settantenne che avrebbe sottratto all'adozione oltre 400 cani, lucrando sulle diarie degli enti locali per centinaia di migliaia di euro. Un'operazione della squadra mobile della questura di Pordenone ha portato alla luce una serie di illeciti avvenuti nel canile di Villotta di Chions. Dopo ripetute segnalazioni, partite anche dal sindaco di Valvasone e Arzene, gli agenti pordenonesi, su mandato della procura di Pordenone, hanno ispezionato la sede legale del canile ad Arzene e quella operativa di Villotta. Durante i controlli degli scorsi giorni è emerso come la struttura sfruttasse gli animali d'affezione per garantirsi continuativamente per un lungo periodo introiti illeciti a danno di 58 comuni convenzionati tra Friuli, Venezia, Giulia e Veneto, 48 in provincia di Pordenone, 10 in provincia di Udine e Venezia, attuando truffe sistematiche ai danni degli enti locali che rimborsavano le spese per il mantenimento degli animali in canile e la loro cura. Nell'ispezione sono stati trovati anche molti medicinali scaduti, fatti per i quali ora è indagata la titolare del canile, attivo dal 1984 una settantenne di Arzene accusata di truffa ai danni dello Stato e peculato. Le indagini hanno evidenziato anche come gli animali venissero ricoverati senza l'attuazione delle procedure di riabilitazione previste e in più occasioni addirittura spostati dal canile di Villotta all'abitazione privata della proprietaria della struttura, sottraendo in questo modo gli animali ad ogni possibilità di adozione e in piena violazione delle normative sanitarie, fatti per i quali risulta tuttora pendente un provvedimento di diffida e ordine di sgombero esecutivo emesso dalla competente azienda sanitaria e mai ottemperato. Sfruttando l'elevatissimo numero di animali ricoverati, almeno 400 solamente negli ultimi due anni, l'indagata avrebbe incamerato un ingente guadagno illecito, quantificabile in svariate centinaia di migliaia di euro. L'attività di indagine, anche con l'ausilio di otto veterinari comportamentisti, ha messo in evidenza come la donna isolasse i cani in box singoli, per lo più senza nemmeno farli sgambare, affinché non sviluppassero socialità e condizioni di sviluppo idonee alla loro futura adozione, per assicurarsi così il mantenimento della diaria fatturata ai comuni affidatari. Oppure, in alcuni casi, collocava più esemplari di taglie diverse in aree comuni, lasciandoli di fatto allo stato selvatico in condizioni di branco per impedire che questi sviluppassero affezione per l'uomo. La fondatrice del canile di Villotta, indagata per truffe e peculato, rigetta ogni accusa. Ho dedicato la vita ai cani, iniziando a salvarli dai macelli tanti anni fa, dice. Nel 2005 fu coinvolta in una vicenda giudiziaria simile che si concluse con un'archiviazione. Quanto sta accadendo al rifugio di Villotta è devastante per chi, come la sottoscritta, opera da 40 anni con passione e totale dedizione per gli animali. Sono queste le parole di Aurora Bozzer, la titolare fondatrice del rifugio del cane di Villotta, indagata per truffa e peculato. La donna, per la sua difesa, in tutte le sedi, ha dato mandato agli avvocati Alessandra Marchi, del foro di Pordenone e Marco Petronella, del foro di Rovigo. La tempesta mediatica va avanti Bozzer, si è scatenata prima ancora che fossero state concluse le indagini, anzi, addirittura con le ispezioni in corso, che hanno paralizzato completamente da tre giorni le attività del rifugio e dell'annessa clinica, con impiego del personale dipendente sottratto alle mansioni ordinarie per fornire puntualmente tutto quanto veniva richiesto, dice Bozzer, che ha fondato il canile nel 1984, recuperando i cani destinati ai macelli. Agli operatori del canile è stato di fatto impedito, continua, di eseguire le quotidiane pulizie dei box, di alimentare gli animali negli orari stabiliti, il tutto con enorme stress da parte degli stessi. Questo blitz, prosegue Bozzer, si verifica a distanza di dieci giorni da una delle consueti ispezioni dell'azienda sanitaria, che attraverso il personale veterinario ha eseguito il sopraluogo per accertare la sussistenza di tutti i requisiti di legge, strutturali e gestionali che fanno del rifugio di Villotta una struttura della regione in regola e non in deroga. Le porte del nostro rifugio, continua, sono sempre aperte agli enti convenzionati, affinché vengano a constatare di persona la corretta gestione del servizio e del rispetto del benessere degli animali che ci affidano. Sono infatti i comuni ad autorizzare la struttura ad effettuare cure sanitarie ed eventuali recuperi comportamentali di cani con problematiche che ne rendano difficile l'adozione. Analogamente ai comuni, la procura stessa da anni ci affida e ci nomina custodi degli animali che sottopone a sequestri a seguito di maltrattamenti, conclude Bozzer. Le indagini sul rifugio del cane di Villotta sono partite da alcune segnalazioni dei cittadini di Arzene e raccolte dal sindaco Maur Maire il quale spiega come oggi la spesa per il mantenimento dei cani sia superiore ai buoni spesa per le persone indigenti. L'indagine che ha visto al centro il canile di Villotta di Chions è partita da alcune segnalazioni dei cittadini di Arzene impastiditi dalla numerosa e rumorosa presenza dei cani nella sede legale dell'associazione segnalazioni che avevano subito coinvolto il sindaco di Valvasone Arzene Marcus Maur Maire. Da tanti anni i cittadini di Via Strigelle hanno lamentato la presenza di questi cani che soprattutto nel periodo estivo davano parecchio fastidio perché erano veramente tanti. Parte di questi cani erano di proprietà dei comuni e quindi i comuni hanno mantenuto questi cani all'interno di questa struttura che dal punto di vista delle autorizzazioni ci sono due sentenze del Consiglio di Stato che ribadiscono che non è autorizzato questo tipo di attività in comune di Valvasone Arzene e pertanto adesso vedremo poi quali saranno le conclusioni della giustizia. Per Maur Maire in attesa che la giustizia faccia il suo corso questa è l'occasione per riflettere sull'attuale spesa dei comuni nel mantenimento degli animali nei canili. Abbiamo speso l'anno scorso più di 20 mila euro per il mantenimento dei cani in canile e per dare i buoni spesa ordinari e straordinari abbiamo speso meno. Ecco, allora su questo forse qualche valutazione andrà fatta anche da parte del legislatore regionale che forse bisogna favorire di più le adozioni dei cani e trovare altre soluzioni perché io credo che vengano prima le persone che non gli animali. Voltiamo pagina Confindustria Alto Adriatico ha dato vita a una task force per rispondere alle conseguenze economiche del coronavirus che sta mettendo in grosse difficoltà il sistema produttivo. Una task force per gestire le conseguenze economiche del coronavirus a istituirla è stata Confindustria Alto Adriatico per individuare gli strumenti e gli ammortizzatori sociali più efficienti per assistere le imprese e raccogliere informazioni utili a proporre iniziative alle istituzioni. L'abbiamo chiamata Termometro Cina per segnalare la febbre che c'è nel nostro sistema economico da quando è diventata conclamata la vicenda del coronavirus con le sue ricadute ovviamente economiche. Già in queste ore numerose imprese elettroniche si sono rivolte a noi e noi abbiamo già contezza di alcune imprese anche grandi che si accingono a chiedere cassa integrazione nelle prossime ore e nei prossimi giorni proprio perché hanno la produzione ferma e mancanza di componenti. A soffrire non sono solo le imprese che producono in regione ma anche quelle con attività in Cina. Sicuramente anche quelle avranno dei problemi perché sono come le imprese cinesi che in questo momento si trovano in una situazione di grande difficoltà sia nell'affare di produzione e non dimentichiamoci che poi il sistema logistico trasporti è tutto bloccato. La situazione attuale per Agrusti impone un cambio di paradigma rispetto al passato. Abbiamo consentito in questi anni che la Cina diventasse la fabbrica del mondo da un lato e quindi lasciare in esclusiva la produzione di tutta una serie di componenti del sistema industriale sia nella meccanica che nell'elettronica. Dall'altra era diventato il paese che acquisiva più beni di lusso e quindi quelli verso i quali si indirizza l'export del lusso italiano. Bisogna riportare a casa in Europa e negli Stati Uniti e nel mondo occidentale tutta una serie di produzioni strategiche. Bisogna che il pubblico capisca che questa è una fase straordinaria l'Europa rinunci alle regole strette dell'aiuto di Stato. Cominciare a ragionare in termini di investimenti massicci ad alta necessità di capitale che sono quelli di prodotti strategici. Abbiamo visto che basta che arrivi il cigno nero cioè questo elemento non previsto che interrompe una fase di economia crescente e rischia di portare mezzo mondo nel barato. Insomma abbiamo parlato fin qui delle vie della seta alla fine sulla via della seta è arrivato un virus che ci ha messi tutti ci sta mettendo tutti in grandi difficoltà. Il gruppo Palazzetti di Porcia ha restaurato il cammino monumentale di Palazzo Reale a Torino un lavoro durato tre mesi sotto l'occhio di una webcam. La Palazzetti di Porcia ha riportato al suo antico splendore il caminetto monumentale di Palazzo Reale di Torino è durato tre mesi il restauro del caminetto del Salone della Guardia Svizzera risalente alla metà del Seicento e arricchitosi nel corso dei secoli per opera di numerosi architetti pittori e scultori. Sotto l'occhio di una live webcam i restauratori hanno lavorato per ripristinare il manufatto la cui fruibilità era stata fortemente compromessa dalla presenza di strati di sporco protettivi alterati in alcuni casi riprese e integrazioni eseguite in precedenti interventi. Un recupero quello patrocinato dal gruppo di Porcia e dalla Fondaco Italia preceduto da attente osservazioni e compiunature che hanno permesso di mettere a punto metodologie e materiali da utilizzare. Mantenere integro il patrimonio artistico italiano dovrebbe essere un costante impegno da parte di tutti ha dichiarato il presidente Ruben Palazzetti e la presentazione del recupero e per noi imprenditori rappresenta uno stimolo ad agire concretamente perché resti un segno dell'amore per il nostro paese continuando ad essere motivo di quello orgoglio che è il motore della nostra energia produttiva. Il risanamento dell'opera è significativo per la città di Torino e per il patrimonio artistico del bel paese ha commentato la direttrice dei musei reali Enrica Pagella e siamo grati a che ha creduto in questo progetto che ha riportato luce splendore al grande camino in pietre pregiate in una delle sale del palazzo che coglie ogni anno mezzo milione di visitatori. Andiamo in città Il comune di Pordenone investe in cultura puntando sugli eventi e sulla nuova casa della musica in piazza della Motta Pordenone punta sempre di più sulla cultura Dal 2015 al 2019 gli investimenti comunali nel settore sono cresciuti del 35% passando da 3 milioni 809 mila a 5 milioni 140 mila e a breve partono i lavori per trasformare l'ex biblioteca di piazza della Motta in casa della musica Diventerà un luogo fondamentale per lo sviluppo culturale della città si tratta di uno degli edifici più belli che abbiamo a Pordenone ma anche un edificio dimenticato abbandonato a troppo tempo la destinazione sarà sede per le scuole di musica abbiamo 9 scuole di musica in città noi promuoveremo l'aggregazione tra questi enti per consentire ai ragazzi di avere una sede prestigiosa attrezzata moderna In piazza della Motta c'è anche l'ex convento di San Francesco nel 2018 ha registrato 25.000 presenze agli eventi grazie anche a ex convento live format di teatro e musica sperimentali che richiama pubblico locale e dall'estero successo pure per il PAF il palazzo del fumetto insediato alla galleria Pizzinato a Parco Galvani 23.000 le persone che lo hanno visitato in un anno e 133 gli eventi ospitati tra mostre incontri culturali corsi e laboratori questo tra l'altro dimostra anche l'impegno gli investimenti culturali che ha fatto questa amministrazione allargando la base culturale arricchendola di eventi e manifestazioni supportando le associazioni garantendo quindi un quadro complessivo che va dalla cultura alta al teatro verdi a quella dell'aggregazione del divertimento e del tempo libero investimenti crescenti che sono stati fatti senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini ma attraverso una giustione oculata del nostro bilancio il nostro telegiornale termina qui l'appuntamento è per domani sempre alle 20.45 vi lascio in compagnia di elettroshock condotto da Daniele Micheluz che parlerà del giorno del ricordo e della giornata della memoria grazie di essere stati con noi e buona serata grazie a tutti